E' importante che anche in questo caso non vi sia lo spreco delle tecnologie e quindi un grazie al banco delle tecnologie. Al centro servizi volontariato che si preoccupano di recuperare tutti quei computer che possono essere risistemati e consegnati alle associazioni di volontariato perché possono essere un supporto importante. Abbiamo colto questa occasione come centro servizi volontariato del Veneto di poter dare un supporto informatico alle nostre 500, ormai 50 associazioni in maniera che possano dialogare e avere tutta la tecnologia possibile a costi si può dire quasi zero. Le nostre associazioni con questo possono dialogare ed essere in perenne contatto con il nostro centro. Grazie a tutti.